A tutti ragazzi in mezzo di Nick Rivers, Trubbers e Bo! E siamo su Daylight, un indie horror un po' più serio, chiamiamolo serio, non lo so, come vedete è proprio in un certo modo Male with Unreal Engine 4, quindi insomma è fatto abbastanza bene, quindi partiamo, Daylight non so, praticamente non l'estituto, solo che è appunto semi serio E quindi niente, giochiamolo, siamo qui, siamo una tizia con uno smartphone in mano, che va in giro con il, che bello In un posto desolato, ma quella è la statua di, hai notato? Di Bioshock Infinite, vabbè, si è molto simile Cos'è? Hai trovato una batteria luminosa? Hai trovato un sacco di batterie luminose Un sacco di batterie luminose? Quattro batterie luminose E ne ha lasciato una lì perché... Usa le barrette luminose, uno Ma do What? Ok, e ci siamo Che figata E ci siamo Guarda la scrivania di Matrix, guarda La paziente di dieci mesi di età è stata riconosata qui dai genitori affidatari Affidati, mi spiegavo l'incidente, creduto in poco Cosa fa? Cosa fa? Che cosa c'è alle mani? C'è la lebra C'è la pesca Cos'è sta roba? Sembra un caricamento Un caricamento? Io devo solo aprire una porta, non ti sto chiedendo tanto Devi caricare l'aria che viene dopo questa porta C'è la fatta, è incredibile C'è la mamma mia ragazzi, questo è un problema del gioco però Spero proprio che non sia così tutto il gioco Questo è un problema grosso del gioco Ok, comunque siamo abbastanza da soli Trova le riminiscenze Ho un altro cosometrico Ciao, riminiscenze Le fiamme le indeboliscono S'attima Usa il tuo vantaggio, ma un pochino potrà uccidere Trombone Ti vogliono stuprare Lo so, lo so, lo so Lo so, lo so Lo so Lo dico io Ma cos'è? Abbiamo una mappa sullo smartphone? Sì, abbiamo una smartphone Ficco Oh no Questo è troppo Questo è troppo Questo è troppo Sono sparite Sono sparite A caso? Vabbè A caso Usa Perché non può aprire una porta adesso? D'atmosfera c'è tutta No, no Bisogna dire che L'atmosfera Trombone Occhio L'atmosfera c'è tutta E la Matrix Time Che cavolo Sono impronte? Sì, sono le tue Sono le mie impronte Ma dai Che bello Ti consumeranno Inventario pieno Di troppe barrette luminose Vabbè Quattro è il massimo Di barrette Quasi importare A questo punto Tanta roba insomma Abbiamo trovato anche Questi Abbiamo un fuoco Qualcosa Non capisco Eh vabbè Quando si apre Lascia stare Ok Andiamo allora Abbiamo Andiamo Un'altra cosa Che Bello smartphone Guardalo Così Ah Oh No 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 Che cavolo Era Ma dove è andata? Non lo so Apri Via 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 No 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 Hai trovato un bengala Ok Sono i bengala Sono i bengala Da sparargli in faccia Con quella stronza C'è una stronza Che diceva No ma urlalo Cioè Dizio Cioè Magari Sono qua Ti fratemi Sono qui Prendimi proprio Nelle chiappe Distruggimi Cos'è quella roba là Occhio 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 trombol Cos'è Che cavolo è Non so Oddio per favore Cosa c'è Beh non si apre Vabbè Non so Usa le batterie luminose Per cercare che fondi Ti dice uno Ma non si apre Vabbè non si apre Basta Ok di qua Forse devi avere ancora Tutte le riminiscine Ti possederà Bello Ti possederà Ok Per me c'è Tipo una chiave Per qualcosa Perché non si apre Cioè Va via Vabbè andiamo via Guarda la mappa Perché per me abbiamo saltato qualche po' Sì abbiamo saltato Questa C'era un bivio Questa Ok Permesso ragazzi Permesso Ciao ci siamo Ciao Lo apre E il paziente Che bello Che bello Che bello Che bello Il paziente manifesta Segni di dischi E questo è stazio No 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 Questo non mi piace Per niente Eh vabbè Ti possederanno Ok Maia ritorna Questa cosa Beh dove andiamo Eh dritto 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 di qua Sì sì No di là Dritto Apri piano Idiota Ok apri Un baglietto Inventario pieno Tope peste luminose Vabbè Pocco cane Abbiamo Uh 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 Apri Cosa Hanno arrivato il sigillo Prendila il porto Ah con l'altra Dai via E dove è il sigillo Ecco l'è il sigillo Non ti ricordi quella porto Occhio Vabbè 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 Ja No 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 Non c'è niente Non c'è niente Non c'è niente Occhio perchè c'è l'orso in mano, stronzo Mettiglione nel sedere a quella l'orso schifoso Beh... What the hell? Beh... Lei tranquillo, what the hell? What the hell? Beh, beh, beh... Chi è? Beh... Ma che cavolo... I see you... I see you... Trova l'uscita... Beh, dove è l'uscita? Chi uno? Ah, sì... What? Ah, siamo ritornati! Siamo ritornati da prima! Forse è questa cosa luminosa, vedi che c'è un punto luminoso lì? No, forse siamo noi quello lì Sì, sì, per me è così Destra... Destra ancora... Ma io dobbiamo tenere città di mezzo Si vede una massa contenta di mezzo Forse è quello verde, forse questo qua verde Quello in fondo verde Beh, dove è trovare l'uscita? Dove è trovare l'uscita? Ma tu ci stiamo avendo dove? Dove è trovare l'uscita? Oh mio Dio No, di qua ci va da un'altra parte Allora, l'uscita L'uscita, poi... Aspetta, ferma, ti fai vedere dove sei Di qua, secondo me Eccola, eccola, eccola Sì, sicuro Sei idiota, ma stai fitta Efficiente proprio Vai Sì Teddy La potenza di Teddy La potenza dell'orso Siamo fuori Ok, magari accendi un cazzo di cosa Cioè no, è meglio, siamo dentro Cioè, siamo ancora dentro Siamo un po' troppo dentro Siamo un po' troppo dentro Vabbè Eccola Tutti i dipendenti di riserva sulle 19 Che bello Che bello Non sono operative la direzione Va bene E' un'altra roba qua E' 10 minuti di la direzione E' benissimo E' di qua Ciao Ciao ragazzi Ciao Permesso Ma quello è sempre in Famous Te lo ricordi? No, in Sidious Ti ricordi? Beh, beh 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 Cittadini di Kipling Accuscreen Ma che bello Che bello Non sa scrivere questa qua Va bene Ok, ok, ok Ok, ok, ok Qua Stop Vabbè 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 Cosa ti tormenta Sara Non capisco Sei un alleato E' un cazzo di idiota Non capisco Qui c'è una luce rossa Ma Space Puoi arrabbicarti su alcuni oggetti Le scatole con una corda possono essere spostate Clicca intanto apri quella lì Aspetta Possono essere spostate Dove? Lì forse Aspetta Sì Tech Space Quindi sali Vai Space Space Stacca Space Yes Spacca Space Vai E c'è L'arrampicatore L'arrampicatore Assassin screen Andata Sali giù Tira sulla leva Sali giù P talla Ancora Stessa roba Va che è un malato lui Anche secondo me Va che è un malato L'animazione dell'arrampicata È qualcosa di insostenibile Tranquilla che ci siamo Ce la fai Pesantino come gioco però Ci siamo Ci siamo Ma devi solo buttarti giù adesso Ci mette mezzo giù Buttati Ciao Ok Non so dove Di qua no Direi dritto per dritto Di là No Che bello Di là dall'altra parte Non può neanche saltare Allora Cos'è questo? È un bottoncione What? Ho fatto qualcosa Non voglio Ah ho fatto quella porta lì Oh Andata Andata Ok passiamo Andiamo Cazzo è adesso Grande Ci sei chiuso dentro Andiamo Salvataggio Andiamo Corri 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 Run Ce la fai Run Run Ce la fai Run Sfondala Ok No Occhio Ma sei Ma proprio Ma spiegami quale idiota puoi fare una cosa così Guarda adesso Quale idiota puoi fare una cosa così Spiegamelo Il bengala Io non lo capisco Spengala Spengala Spenging C'è una luce rossa Un bengalino ragazzi C'è una barretta luminosa Uno stick verde qua Stick verde Ne abbiamo solo uno Ne abbiamo una mia Siamo fottuti Siamo a razza Eccolo 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 Dai che ci credo Sei tu? Sì Sì Una Una Prendi ancora sto fogliettino Va buona Passa di qua È enorme È un idiota Una deficiente Una deficiente Lo so che sono Una deficiente Lo so Che non sono normale Ma che cavolo era Il bisonte Il bisonte Qui c'è quello vicolo Quindi bisogna provare l'altra porta L'altra porta Vabbè là c'era un'altra porta Sì C'era un'altra porta Vai Mi sto perdendo Va bene va bene Dai qua È chiuso Oh God No 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 La campanella Si fa merenda Si fa merenda Ok Dai Dai Davanti hai visto Ah lì Anche lì dietro C'era una Come Corri Devi correre Ok Devi correre Devi correre No Via 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 No No Ok Ok I bengala Arano i cosi Sti stronti qua Dovevo pensare di aver capito bene Beh i bengala sono la nostra arma È stato estremo Beh i bengala sono la nostra arma C'è una cosa da prendere È chiusa beh No Qua Hai ragione Bravo Beh c'è è da panico Maia Maia vabbè Ne abbiamo solo due No 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 Tanto si bruciano No Beh Vai avvicinati Struzzo Ti posa Visto Che baffana Dai Sì Sapete fare E bengala sono i finiti Facca no Ecco Appena detto Va bene Se tu stessi zitti Se no io ero Ok Stessa cosa di prima Non c'è un cazzo Devi raccogliere qualcosa Però in questa stanza Prima era tutto C'era Teddy volante Qua qua non c'è niente C'è niente Ok per esempio Dobbiamo prendere ancora qualcos'altro Ok Va bene Ci torneremo Sorry Dai corri 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 Vabbè Vabbè Via 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 Corri corri Non accendere il bengala Ancora non il bengala No è chiuso 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 Via 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 Maia Ma che cavolo Sparito A caso Bell io mi fermerei qui Ok ragazzi È pesissimo È bello È bello Tu non lo stai giocando Ti gioco che è peso È peso Va bene Grazie a tutti per aver guardato il strombone Grazie a tutti per aver guardato il suo Daylight Primo episodio, ci vediamo alla prossima Ciao